ehi ragazzi qui è il vostro nuovo electric studios e oggi vi devo dire un paio di cose allora come avete visto è un po' che non faccio video perché sono impegnato col lavoro un po' di robe poi qua recentemente come avete visto un po' in tutta Italia nevicato quindi diciamo che ho passato fine settimana a spalare la neve in giro per il vialetto di casa e torno a casa c'era un fracco di neve quindi non ho potuto registrare video dobbiamo ancora finire di editare alcuni video quindi sono un po' indietro comunque sappiate che a breve ricomincerò a pubblicare video cercherò di recuperare quindi pubblicare più di un video nelle prossime settimane e fatemi sapere comunque quale challenge che volete i video che volete ricordate di iscrivervi condividere per vincere anche la maglietta del canale e fare un video con me il concorso vincere il concorso e invitate anche i vostri amici a iscrivervi poi altre cose che devo dire ho quasi finito di fare una roba per un'altra challenge che faremo a breve in teoria un paio di settimane massimo un mesetto la facciamo e poi la pubblichiamo vi ricordo di continuare a seguirmi e iscrivervi spolliciare tanti bei mi piace vi saluto saluto elettrizzante vi ricordo di iscrivervi anche al canale di Nickboy e Matt e se riesco vi lascio il loro link del loro canale in descrizione vi lascio il saluto elettrizzante e bella ragazzi ciao 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 ciao